Ciao, sono Giovanni Cirfiera, sono di Casarano, provincia di Lecce. In questo momento vivo all'Euca, un paesino che dista da Tricase dove farete le riprese, tipo 10 km, a Casarini. Ho vissuto un po' dappertutto, ho lavorato a Milano e ho studiato teatro a Milano, poi un po' a Roma dove ho lavorato per RIS e squadra antimafia. A Parigi ho lavorato sempre in teatro e rilavorerò in novembre, poi ho fatto un film che si chiama Les Limits, sempre in Francia, e a Los Angeles dove ho vissuto anche 4-5 anni, ho lavorato sia pubblicità che cinema, non tanto cinema, però qualcosa ne abbiamo fatto. Faccio l'attore perché mi ero stancato di fare tanti altri lavori che non mi piacevano, sono ritornato alla mia passione originaria che era il teatro, lo facevo da piccolo. Oltre a questo poi suono e canto, compongo la mia musica. Cos'altro? Si sta molto bene qui a Lecce, al mare, cercherò di stare quanto più possibile, chiaramente dipende dal lavoro. La mia famiglia vive tutti qui, i miei fratelli, insomma è un posto stupendo. Cos'altro? Niente, praticamente solo questo. Se vi può bastare vi faccio un profilo, visto che nell'altro provino avevo capito male, insomma. Doveva essere rilassato, ma forse era un po' troppo rilassato perché era sul divano sbagliato. Vi saluto, vi ringrazio e vi auguro buon lavoro e buon film. Ciao! Ciao!